ciao dolcissime e dolcissimi mi sono dimenticata a farvi vedere cosa ho acquistato per me mi sono fatta il regalo da sola oltre che mi sono fatta da sola il regalo quel trolley mi sono fatta auto regalata anche questo panettone della balocco il classico molto buona me mi piace tanto sia questo qua e quello col mandarlato guardate quanto è carino che cucciosità infinita e ve lo posso dire anche una delle latte più belle che ha fatto il balocco buoni anno buon anno e questo è da 750 grammi devo sapere quando scade perché sicuramente ad aprile scade perché tutti i panettoni scadono ad aprile comunque a me mi piace tanto che ne pensate di questa latta e noi ci vediamo al prossimo video buon anno e questo ve l'ho fatto vedere l'autoregalo che mi sono fatta da sola il trolley make up a a Grazie.